amiche e amici di grottaglie siamo appena entrati nel centro storico in largo immacolata alle mie spalle via giuseppe battista da qui oggi parte la nostra passeggiata alla scoperta di un'altra storia e di un altro luogo di grottaglie seguitemi siamo qui in uno slargo che compie via battista in questa zona oggi c'è un ristorante un tempo una famosa pasticceria da un altro lato uno dei palazzi storici di grottaglie e qui si affaccia una viuzza che in qualche modo ha segnato la vita non solo di un personaggio grottagliese ma per certi aspetti di tutta la città quale molti di voi lo avranno già capito per chi non lo ha ancora scoperto qualche secondo di attesa la zona di cui parlavo la vedete alle mie spalle e qui forse già qualche uno di più inizierà a immaginare di chi parleremo beh diamo qualche altro indizio grottaglie è famosa per san ciro medico eremita e martire tanti sono i grottagliesi che oggi portano il nome del santo di alessandria ma non è solo lui l'unico ciro ad essere conosciuto a grottaglie ce n'è un altro conosciuto per motivi molto diversi da quelli dall'eremita egiziano motivi che raccontano una storia di passione di fede di morte e di violenza e sveliamo allora il personaggio della storia di oggi è ciro annichiarico detto papa giro o ancor più dialettalmente papa giro che nacque a grottaglie il 16 dicembre del 1775 ciro annichiarico fu un presbitero un uomo di chiesa ma soprattutto un brigante perché diventò brigante beh adesso racconteremo un po la storia ma come spesso accadeva in quei tempi la sua fu quasi una scelta obbligata per sfuggire alla giustizia una giustizia che applicava la legge ma spesso non dava come dire onore al suo nome non si parlava di una giustizia giusta furono tanti gli uomini del popolo che per sfuggire a delle condanne violente tanto quanto i delitti di cui questi erano accusati si diedero la macchia e volenti o nolenti dovettero ricorrere alla forza delle armi alla forza della violenza per sopravvivere a differenza di altri uomini religiosi di grottaglie di ciro annichiarico non abbiamo molte notizie relative alla sua attività legata alla religione sappiamo che era un presbitero a 25 anni diventò maestro di canto gregoriano quindi sicuramente non era una personalità tra le minori ma la sua fama che dura ancora oggi è dovuta a tutt'altro che a un atto religioso anzi qualche cosa che in qualche modo contravveniva ai voti che lui aveva giurato di rispettare non sappiamo neanche se ciro annichiarico scelse la via religiosa perché profondamente convinto della fede che andava ad abbracciare o come tanti altri hanno fatto per sfuggire alla fame sia come sia le cronache raccontano che si invaghì di una vedova di 26 anni e con due figli e Antonia Zaccaria è come se non bastasse a contrastare questo amore non c'era solo la sua scelta religiosa ma anche la rivalità con un altro sacerdote don giuseppe motolese con cui ciro annichiarico contendeva i favori di questa vedova Antonia Zaccaria e di questa vedova oggi si sa poco ovviamente non è passata agli onori della storia una cosa particolare è il suo soprannome curciola qualcuno lo fa risalire al termine dialettale curciulo con cui si indica un cucciolo o un pulcino qualche d'un altro invece fa riferimento al termine curcio Gerald Rolfs nel suo sempre interessante dizionario traduce curcio come un sinonimo dell'organo genitale femminile e quindi questo in qualche modo ci fa pensare che la reputazione di questa vedova non fosse tra le migliori anche in questo caso non sappiamo se il soprannome le sia stato attribuito dai suoi contemporanei per stigmatizzare una condotta di vita che ai più appariva dissoluta o se sia stato appunto un epitoto che le sia stato affibbiato dopo gli eventi che la videro protagonista probabilmente era una vedova che doveva in giovane età sostenere se stesse i suoi due figli e cercò come è comprensibile che facesse il sostegno economico oltre che morale di qualche potente di turno come potevano essere appunto i due protagonisti di questa vicenda. Il 16 luglio del 1803 Don Giuseppe Motolese venne accoltellato da un uomo mascherato qui sotto questo arco e di questo delitto fu accusato Don Ciro Annichiarico. Lui si è sempre proclamato innocente, si proclamerà innocente anche durante il processo in cui confessò ben 70 delitti quindi non gli sarebbe forse costato nulla ammettere anche quello che ha scatenato il cambiamento nella sua vita o forse non lo volle fare perché avrebbe dovuto ammettere appunto che tutto quello che poi gli accadde era colpa sua. Del delitto di Don Giuseppe Motolese venne accusato come vi dicevo Ciro Annichiarico, venne condannato a 15 anni d'esilio ma nonostante questo non fu scarcerato e allontanato dalle terre di Grottaglie ma venne trattenuto in carcere, un carcere da cui riuscì a fuggire e da cui cominciò la sua nuova vita di brigante. Ciro Annichiarico non fu l'unico a darsi al brigantaggio per sfuggire alla legge e all'oppressione di una vita grama, ricordiamo Cosimo Mazzeo detto pizzichicchio di San Marzano, un altro dei personaggi che con Grottaglie hanno avuto molto a che fare la cui storia si racconta ancora. Don Giro fuggì, insieme ad altri diede vita alla setta dei decisi e per ben 15 anni compì scorrerie, razzie, rapine nel territorio di Grottaglie, rifugiandosi nelle foreste che c'erano intorno a Grottaglie e arrivavano sino a Martina Franca. Come spesso accade la latitanza di Ciro Annichiarico, favorita anche da una situazione politica abbastanza precaria, sicuramente in quel periodo la situazione sociale e politica era abbastanza fluida, diremmo così, ma di fatto a un certo punto la monarchia borbonica venne restaurata e il re Ferdinando I decise di risolvere la questione brigante una volta per tutta, affidando il compito al generale Richard Church che, ben armato di uomini e di mezzi, scese in queste terre per dare battaglia in campo aperto ai briganti e adempiere così al mandato che gli era stato affidato. Mandato che effettivamente lui riuscì a portare a termine catturando Ciro Annichiarico e i suoi uomini in una battaglia che avvenne nella masseria Scassevra dove Don Ciro insieme appunto ai suoi uomini si era rifugiato qui vicino Grottaglie. Era il 7 febbraio del 1817 quando Ciro Annichiarico insieme ai suoi uomini venne catturato e condannato a morte a Francavilla, all'epoca si chiamava Francavilla a Dothranto. Il suo corpo fu poi portato in giro, esposto come spesso si faceva a quei tempi come monito per la popolazione. Come vi dicevo durante il processo Don Ciro Annichiarico confessò oltre 70 delitti ma quel primo, l'assassinio di Don Giuseppe Motolese, lui non volle mai ammetterlo. Non sappiamo se effettivamente perché lui era innocente o perché come vi dicevo non voleva confessare questo suo primo grande peccato. Intorno alla storia di Don Ciro Annichiarico si sono poi costruite tante leggende. C'è chi sostiene che Don Ciro fosse in qualche modo uno strumento in mano alla ricca borghesia che lo utilizzava per i suoi giochi di potere, un po' per vessare i contadini, un po' per tenere sotto controllo la situazione. Anche di questo non avremo probabilmente mai certezza. Quello che sappiamo è che Don Ciro condusse questa vita errabonda, violenta, disperata per quello che era un delitto d'amore e di passione che probabilmente non aveva mai commesso. E qui al termine di questa discesa che porta alla chiesetta della Madonna del Lume, un altro luogo storico di Grottaglie dove San Francesco de Geronimo ebbe la prima istruzione, c'è un pannello di ceramica che racconta e descrive e riproduce i fatti salienti della vita di Don Ciro Annichiarico. Questo è il pannello, vedete in alto a sinistra la scena dell'assassinio del rivale in amore di Don Ciro compiuta da un uomo incappucciato con un pugnale. Alla destra di questa scena la cattura di Ciro Annichiarico e alcuni dei suoi uomini da parte dei soldati del generale Ciarci. In basso la fucilazione, la condanna a morte di Ciro Annichiarico e in basso a destra appunto la sua triste fine del suo passaggio umano. Il suo cadavere, la sua testa esposto a monito delle altre genti che avrebbero voluto pensare di ribellarsi al potere costituito. E così in questo pannello di ceramica qui alle mie spalle, realizzato nel 2005 da alcuni studenti dell'Istituto Statale d'Arte qui di Grottaglie sotto la guida del professor Attigliolenti, sono riprodotte, come vi raccontavo, le fasi salienti della vita di Don Ciro Annichiarico. Una vita, come avete sentito, puntellata dalla passione, dalla violenza, dalla morte. Una vita che, come commentavo con un amico, potrebbe essere davvero la trama di una serie che potrebbe andare in onda su qualche tv a pagamento. Ecco, noi a volte trascorriamo il nostro tempo guardando film, serie tv che raccontano storie più o meno fantastiche ambientate in luoghi lontani. E a volte dimentichiamo che anche nella città dove viviamo ci sono storie, ci sono racconti, ci sono leggende altrettanto appassionanti. Io credo che quella di Don Ciro Annichiarico sia una di queste. Ne ha scritto mirabilmente il professor Rosario Quaranta. È stato realizzato un film addirittura qualche anno fa da alcuni appassionati del luogo. Ecco, sicuramente Don Ciro è un personaggio dalle tinte forti, chiare e scure, un uomo che ha vissuto la violenza e l'ha applicata. Don Ciro è stato condannato dalla giustizia degli uomini. Non sapremo ovviamente se ha avuto invece giustizia nell'aldilà. Quello che possiamo fare noi è raccontare la sua storia, raccontarla per ricordare sempre che nella vita di ciascuno di noi un singolo evento può cambiare drasticamente il corso del nostro futuro. Per raccontare che a volte, come raccontava il poeta De Andrè, le passioni ci conducono anche ad atti a volte scellerati. Don Ciro era colpevole, Don Ciro era innocente, non lo sappiamo. Sicuramente Don Ciro era un uomo del suo tempo che ne ha vissute tutte le contraddizioni e che ancora oggi ricordiamo per la sua storia curiosa, drammatica e affascinante. Una storia che merita di essere ricordata, merita di essere raccontata perché è una delle tante storie che rendono grottaglie un tesoro ancora da scoprire e noi speriamo di riuscire a farlo insieme a voi con queste piccole passeggiate. Grazie e alla prossima!